Dall'Università d'Annunzio di Chiatipescar arrivano 21 dottori in Ingegneria Biomedica, primi laureati del nuovo corso triennale che l'Ateneo d'Annunziano attivato ampliando la propria offerta formativa. Al Tg8 il professor Enrico Spacone, presidente del corso di studi. Oggi si scrive una pagina della storia di questo Ateneo perché sono i primi laureati in Ingegneria Biomedica. Sono 21 ragazzi che hanno concluso il corso di studi in meno di tre anni, veramente un successo. Questa è una laurea triennale. L'Ateneo d'Annunzio ha già avviato una laurea magistrale, quindi io penso che tutti quanti i laureati di oggi continueranno con la laurea magistrale che apre una serie di mondi a questi ragazzi volenterosi e propositivi. Si apre il mondo della ricerca, si apre il mondo della consulenza, si apre il mondo delle ASL. Si apre il mondo degli ospedali, si apre il mondo della produzione di tutta una serie di device che servono nel mondo biomedico. È un campo in continua crescita che l'Ateneo d'Annunzio ha avuto la lungimiranza di avviare con molte difficoltà ormai sorpassate e con grande successo degli studenti che poi sono alla fine i nostri clienti principali. Nello specifico dove potranno lavorare questi neolaureati dell'Ateneo d'Annunzio? I campi sono innumerevoli, si va dalla sperimentazione, produzione e gestione di tutte le protesi. Una sottoarea di questo campo che si sta sviluppando in questi ultimi anni per esempio è quello della stampa 3D. Poi c'è tutta la gestione dell'informatica delle ASL, c'è la robotica. Una grande espansione nel mondo medico, c'è sicuramente la telemedicina, i campi di applicazione vanno fino alla commercializzazione, alla gestione di brevetti a livello internazionale su questi nuovi devices che vengono sviluppati nel mondo biomedico. Cosa ti ha spinto a scegliere questo corso di laurea? L'opportunità di poter fare qualcosa che potesse aiutare gli altri. L'ingegneria biomedica è un ramo che si sta sviluppando recentemente ma che nel futuro penso avrà molte applicazioni soprattutto per quanto riguarda l'interazione tra medico e tecnico nella realizzazione magari di dispositivi medici su misura, di protesi o di macchinari anche per l'analisi ospedaliere. Perché sono appassionata sia comunque dell'ingegneria, quindi di matematica, fisica, quindi di materie ingegneristiche ma anche di medicina e quindi mi sembrava un buon connubio di entrambe. Abbiamo molti corsi di odontoiatria, molti corsi di medicina. Adesso sceglieremo quale percorso prendere, intraprendere e vedevo. E come vi vedrete tra qualche anno? A lavorare dove? Io spero di rimanere comunque nell'ambito ospedaliero. Infatti il mio indirizzo che sceglierò nella magistrale sarà telemedicina e biorobotica che svolgerò qui alla D'Annunzio. Io personalmente penso in un'azienda pubblica come ospedale perché penso di seguire con ingegneria clinica.